Ho conosciuto una donna di nome Chrissi. Dici che nella vita la cosa più importante è vivere. Anche quando si ha voglia di farla finita c'è sempre una buona ragione per vivere. Chrissi ha ragione. Ciao Chrissi. Ciao. Ti va di parlare? Non lo so. Pochi minuti. Cosa c'è? Lei non mi ha detto tutto. Tutto cosa. Di lei è lei mia. E allora? Aiutami Chrissi. Non posso far nulla se non mi aiuti. A farti uscire di qui. Lo so che non c'è niente. Lo sai anche tu. Insisto Terry. Te l'ho già detto. Non sono fani tuoi. Sono stati. Non è vero. Terry tu hai già fatto molto. Ti ringrazio. Ma il tuo compito è finito. Non puoi trattare così. Sto cercando di aiutarti. Per risultare. L'ho ucciso io. Lo sanno io. Anche io. Anche io. Perché Chrissi? Perché era un gran bastardo. Lo sai anche tu. Era questo che intendevo. Allora spiegati meglio. Chrissi ti prego dimmi com'è andata. Te l'ho detto sono stati. Lasciatela di me. Me l'ha restituita. Davvero Chrissi? Davvero. A te o lei. Adesso basta a te. La smetto solo. Quando mi direi la verità. Allora basta. Va bene Chrissi. Come tu. Però. Lei non sei andata di nuovo. Non dici nulla? Allora. Adesso. Va bene Chrissi. Addio. Addio. Lena. Mi ha detto Tele che volevi parlare. Parlarti. Voglio solo dirti quando mi fai schifo. Che ho fatto Lena? Spruzzata da quattro soldi. La bocca è chiusa. Non trova sei tenere. È vero? Lena. Sta zitto ma fai un culo. Ti porcate le fatte pure tu. Ma non sono andata inizio a raccontarmi. Lena non potevo non dirglielo. Se ho provato te lo giuro ma non potevo. Discutava la lingua data? Non è una cosa da nulla. Appunto. È poi chiuso in che accentuato. Io lo so che significa. Non capisci più niente. Pensi solo a quando potrai farti un'altra volta. Non è vita questa. Quando deciderai a me? Tu non decidi più nulla. Nulla. Fino a quando non butti neccetto quella merda. Tu hai smesso di decidere. Non puoi farlo Lena. Ai sedici anni non hai visto ancora niente della vita. Basta! Una promettria nel cazzo. Mancavi solo tu, Dana. Ce ne ho le palle piene, sai? Ce ne ho le palle piene di te e di tutte quelle come te e Chris e Terry che vogliono sempre insegnarmi a vivere. Volevo insegnare un cazzo, va bene? Sono nata per grazia vicendita. E in dodici anni mi sono girata non so quanti orfanotrofi. Nessuno però che sapeva o voleva dirmi chi cazzo fossero o volevo immerdere i miei genitori. buttata lì, tra suore e freddi. Dodici anni diverse, nosari e preghiere. Poi arriva il grande giorno. Due coglioni mi adottano e mi dicono subito che la vita non è mica quella del convento. Bisogna guadagnarsela la vita. Guarda noi quanti sacrifici facciamo per te. Anche a scuola di danza ti mandiamo. Bene, ho imparato in fretta la merzione. Me la sono guadagnata subito la vita. E adesso faccio quel che cazzo vi fa, è chiaro? E voi vorreste insegnarmi a vivere. Cercatevele un'altra, va bene? Addio! L'era! Grazie.